Fatale per Pierpaolo Bisoli la sconfitta di sabato per 1-0 in casa contro il Perugia. Dopo una notte di riflessione il presidente Bonetto dà l'annuncio. Il Padova cambia nuovamente esonerato Bisoli per la seconda volta al suo posto l'allenatore della primavera, Matteo Centurioni, all'esordio su una panchina professionistica. Nuova svolta in una stagione da incubo per i biancoscudati. Decisione sofferta da parte della società, decisione inaspettata anche se gli scricchioli si sentivano da tempo. La mancanza di risultati e una situazione di classifica preoccupante hanno portato a questo nuovo licenziamento. Dopo la gara col Perugia i vertici del club si erano trattenuti a lungo per decidere il futuro di squadra e allenatore. Il presidente Bonetto, dopo l'incontro, parlando con i giornalisti, aveva rilasciato dichiarazioni sibilline, poi domenica la conferma. Ora tocca a Matteo Centurioni raddrizzare una stagione che sembra proprio non voler andare per il verso giusto. Al nuovo mister ora si prospettano due settimane di allenamenti vista la pausa, prima di tornare in campo nel derby contro il Cittadella. Alla compagine biancoscudata servono quattro vittorie e due pareggi nelle prossime otto gare, impresa difficile ma non impossibile, vietato sbagliare.